Buongiorno a tutti, gentili telespettatori, benvenuti alla prima edizione quotidiana del nostro telegiornale. Apriamo con la cronaca e due tragici fatti avvenuti ieri. Il primo a Monte San Giusto nel tardo pomeriggio dove un imprenditore agricolo di 27 anni, Francesco Delbianco di Corridoni, è stato schiacciato da un trattore cingolato mentre stava scaricando lo stesso mezzo da un trattore gommato con il quale lo aveva trasportato in campagna in via Madonna Concezione. Secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri, l'imprenditore sarebbe salito sopra il cassone per sganciare il trattore quando quest'ultimo si è ribaltato investendolo in pieno e uccidendolo inutili i soccorsi dei sanitari del 118. In serata invece una ragazza di 22 anni di Ancona, Aurora Caruso, ha perso la vita in un incidente stradale. La giovane, dipendente di un negozio alla baraccola, era al volante della sua auto quando si è scontrata con un'altra vettura condotta da un giovane di Polverigi, anche lui rimasto ferito e ricoverato a Torrette con un codice di media gravità. Tutto dovrebbe essere avvenuto per il mancato rispetto di una precedenza sul posto, oltre ai vigili del fuoco, le automediche di Osimo e di Loreto. La guardia costiera ha reso noto il bilancio finale dell'operazione Mare Sicuro. Sentiamo i dettagli in questo servizio. 13.800 controlli, elevate 218 sanzioni amministrative, con particolare riferimento al fenomeno del noleggio abusivo nel diporto e 31 informative di reato alle competenti autorità giudiziarie. 1491 le verifiche condotte lungo il litorale marchigiano che hanno permesso di restituire alla libera fruizione circa oltre 13.000 metri quadri di aree demaniali marittime e specchi acquei, caratterizzati dal fenomeno dell'illegale posizionamento di attrezzature balneari e dall'occupazione abusiva del pubblico demanio marittimo in assenza di qualsivoglia atto autorizzativo. È il consuntivo estivo dell'operazione Mare Sicuro, campagna nazionale della Guardia Costiera, che da più di 30 anni si pone l'obiettivo di promuovere, incoraggiare e sostenere la cultura della responsabilità per la tutela delle risorse e dell'ambiente. Dall'analisi dei dati rispetto alla passata stagione si è avuto modo di rilevare numeri sostanzialmente invariati per ciò che concerne i controlli eseguiti e gli illeciti amministrativi e penali accertati. Medesimo discorso vale per i dati relativi ai soccorsi effettuati. L'attività di vigilanza a tutela proseguirà anche durante la stagione autunnale, rilasciati infine 260 bollini blu per evitare duplicazioni di controlli. Due uomini di 66 e 59 anni residenti del Fermano sono stati denunciati dai carabinieri di Porto Sant'Elpide e Sant'Elpide a Mare per aver introdotto uno smartphone in cabina elettorale al fine di fotografare la propria scheda durante il voto per le elezioni politiche del 25 settembre. A Porto Sant'Elpide i militari erano intervenuti su richiesta del presidente di Seggio nella sezione di Via Pesaro che aveva segnalato l'uso di un telefono da parte di un elettore dentro la cabina elettorale per immortalare la propria scheda. I carabinieri avevano trovato il votante con il cellulare in mano, analogo episodio in un seggio di Sant'Elpide a Mare in via dalla Chiesa. Anche in questo caso, dopo la segnalazione del presidente di Seggio, i carabinieri avevano sorpreso un 59enne che aveva fotografato la scheda. La violazione di questa disposizione di legge è punita con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1000 euro. Tornano finalmente a nuova vita i locali dell'ex Upim a Macerata in pieno centro storico dopo quasi 20 anni. Manolita Scocco. Curiosità e compiacimento stanno accompagnando i primi giorni di apertura della nuova libreria nei locali dell'ex Upim, storico stabile della Galleria del Commercio di Macerata. Dopo una ventina di anni in cui gli spazi erano rimasti chiusi, vuoti e bui, la chiusura risaliva al 2003, oggi la libreria occupa uno spazio di 230 metri quadri e presenta circa 4000 volumi. A questa apertura ne seguiranno altre in questi spazi storici e conosciuti da tutti, maceratesi e non. Intanto è grande la soddisfazione del SIN, Sandro Parcaroli. Quando è andato via l'Upim queste vetrine sono rimaste incostodite, anche brutte per il centro, per questa posizione che centrale per Macerata non è stata una cosa bella. Questa galleria è così, adesso con l'apertura di questa nuova libreria ecco altri negozi che apriranno, perché ci saranno altri negozi, l'apertura di altri negozi anche qui vicino, quindi il centro sta ripartendo. Per questo, che dire, in questo periodo è un bel segnale. Che è un po' anche l'obiettivo che avete come amministrazione comunale, l'avete sempre detto, rivitalizzare, far ripartire il centro, il commercio, non è semplice soprattutto in questi periodi. No, rifare partire il centro è stato un obiettivo della mia amministrazione, non è semplice in questo periodo, però è un'amministrazione che sta vicino a chi vuole aprire, perché diamo, insomma, nei limiti dei nostri possibili, nei limiti delle nostre possibilità di dare una mano a questi imprenditori che vogliono investire nel centro, ma anche sulle vie, perché io intendo il centro, non il centro proprio qui, ma tutto è macerato in centro, tutti i vari corsi che abbiamo, corsi di calore, corsi di calore, fino alle periferie. Quello che si può fare, anche se le nostre profanerie, Sforza Costa, Vina Potenza, Piedi Ripa, ben venga. E comunque una libreria in una città universitaria, in centro storico, è il segno di una vitalità. Sì, questa è una città universitaria, una bella città universitaria, adesso arriverà anche il nuovo rettore, noi stiamo, l'amministrazione sta parlando con il nuovo rettore, ma abbiamo parlato anche con la tornata, che adesso lascerà. Quindi comune e università sono delle entità molto importanti per la città. Aprire in un locale storico, dismesso d'anni, è una soddisfazione immensa. Speriamo di ridare vita a questo centro storico, che da qualche anno è un po' morente, quindi poi con la cultura, la letteratura, siamo decisamente felici e soddisfatti. Città universitaria, la libreria ha un valore ulteriore rispetto ad altri luoghi? Decisamente, la letteratura, la cultura in una città universitaria, diciamo che sono il fulcro sicuramente, e avere tanti studenti, giovani, che bazzicano qua nella libreria, che calpessano questi pavimenti, è bellissimo, perché siamo abituati a una clientela diversa. Giunti nasce come libreria di centro commerciale, ma adesso si sta aggrappando anche al centro storico e farlo a macerata è una soddisfazione. Impegno della Giunta regionale delle Marche a programmare con urgenza un incontro con i sindaci dei comuni di Fiastra, Valfornace, Bolognola e degli altri delle aree interne che per scelte aziendali degli istituti bancari potrebbero trovarsi nelle medesime situazioni di difficoltà. Lo prevede una risoluzione approvata all'unanimità sul mantenimento degli sportelli bancari nelle aree interne delle Marche. In base all'atto approvato, l'intesa deve essere garantita per un periodo non inferiore ai 5 anni. Ed è stata approvata ieri dal Consiglio regionale la proposta di atto amministrativo concernente le linee guida per la programmazione della rete scolastica e l'offerta formativa per il triennio 2023-2026, un provvedimento che risente fortemente delle mutate circostanze relative ai fenomeni della denatalità e del sisma che ha contribuito ad impoverire, in termini numerici, le aree interne e disagiate. Sentiamo le interviste. Allora, innanzitutto, nella redazione delle linee guida si è tenuto conto di alcune circostanze, tra cui evitare la dispersione scolastica e favorire in maniera particolare le aree interne, quelle maggiormente colpite, ad esempio, anche dall'abbandono delle terre. In maniera particolare, quindi, le linee guida puntano l'attenzione sull'evitare la dispersione scolastica, sul fatto, inoltre, di far sì che i comuni montani e i comuni del cratere si possano applicare delle deroghe per evitare, appunto, il dimensionamento scolastico. È inoltre previsto l'istituzione di un osservatorio sull'istruzione che, appunto, tenga conto di quelle che sono le problematiche che si incontrano. E, da ultimo, favorire comunque una qualità didattica evitando la costituzione delle classi bollaio. Sulle linee guida della rete scolastica per il prossimo triennio il Movimento 5 Stelle ha scelto di astenersi. Perché? Innanzitutto perché era comunque un atto programmatorio dovuto ed è stato impostato, possiamo dire, bene dagli uffici della regione che hanno lavorato in sinergia con le istituzioni scolastiche con le province, con i comuni. Quindi è stato un atto particolarmente partecipato anche dalle studenti e delle famiglie. Quindi, da in linea di principio non abbiamo avuto da cepire nulla se non il fatto che è un po' vuoto di contenuti. Perché quelli che sono i problemi del dimensionamento scolastico e anche della prossimità soprattutto degli istituti primari non è stato superato se non in parte con un emendamento che è stato proposto oggi dal Presidente di Commissione Marinelli su spinta di quelle che sono state le osservazioni del Crel. Questo emendamento è stato poi subemendato anche dal Consigliere Carancini del PD e devo dire che con questo ulteriore emendamento insomma abbiamo chiarito un pochino quella che è la situazione. Bisogna dare deroghe soprattutto alle aree del cartiere del Sisma. Completamente fuori luogo. Un toto di G che sembra quasi un toto ministri per quanto riguarda le nomine dei direttori generali dell'azienda ospedaliera universitaria delle Marche dell'IRCA e delle cinque aziende sanitarie territoriali. Lo ha detto l'assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini a margine proprio della seduta dell'assemblea legislativa di ieri. Con la riforma dell'organizzazione sanitaria regionale approvata ad inizio agosto nelle Marche ci saranno sette aziende oltre a torrette d'IRCA le cinque ex aree vaste che diventano autonome tra le quali quella di Pesaro che ingloberà lo ricordiamo Marche Nord. E restiamo in tema sanità visto che ottobre è il mese della prevenzione del tumore al seno del servizio di Lino Balestra. Grazie alla campagna Nastro Rosa della Lilt per tutto il mese di ottobre sarà possibile sottoporsi a visite senologiche gratuite presso le associazioni provinciali Lilt e i circa 400 ambulatori attivi sul territorio nazionale dove ci saranno anche opuscoli informativi e si daranno consigli. La campagna Nastro Rosa è sostenuta da preziosi partner che si impegnano al fianco della Lilt per la diffusione della cultura della prevenzione come metodo di vita tra cui l'Anci l'Associazione Nazionale Comuni Italiani pertanto ogni comune attraverso i suoi assessorati mette in campo iniziative di sensibilizzazione e della popolazione non solo alla femminile. Il comune di Fano contando su importanti collaborazioni ha appuntato un fitto calendario di appuntamenti coinvolgendo le strutture sanitarie dedicate. Siamo qui per parlare dell'Ottobre Rosa il mese dedicato alla prevenzione e cura del tumore al seno del carcinoma mammario che sappiamo colpisce moltissime donne. Una donna su otto nella vita in Italia viene colpita da questa malattia e siamo qui per ricordare quanto sia importante la prevenzione. Il mio assessorato interpreta il volere del comune di Fano della sensibilità che è di tutta la giunta e del sindaco molto attenti comunque alle tematiche della salute e della salute delle donne in questo caso. Le iniziative sono tante ringraziando anche l'impegno delle tante associazioni oltre che delle istituzioni sanitarie del territorio. noi abbiamo la fortuna di avere un'eccellenza con la breast unit senologica di Marche Nord qui a Fano con il dottor Magalotti e il suo staff una eccellenza riconosciuta in tutta Italia ma anche tante associazioni femminili e non che si occupano di prevenzione della salute che comunque ricordano quanto sia importante prendersi cura di se stesse. Visite senologiche gratuite sono il cuore dell'iniziativa come viene più volte evidenziato che siano però professionisti di riferimento a farle. Prevenire è meglio che curare scoprire un tumore della mammella in fase percoce vuol dire avere una guarigione pari al 98% pertanto fare gli esami e le viste di controllo regolarmente è fondamentale ci tengo molto a dire mi raccomando viste specialistiche da persone che fanno sto mestiere non quelle che lo fanno solamente nel mese di ottobre persone che maneggiano il tumore della mammella tutti i giorni non quelli che l'hanno visto solo sul libro e che poi si trovano in questa situazione perché il mese di ottobre è un mese molto importante ma tutti diventano senologi tutti devono andare in paradiso pertanto vengono fatte tante belle cose noi lo facciamo tutto l'anno non lo facciamo solo il mese di ottobre per cui noi regolarmente vediamo in ambulatorio circa 3.000 persone con diagio di tumore della mammella o operati di tumore della mammella all'anno e operiamo circa a Marche Nord 435 tumori l'anno scorso e a Urbino 152 tumori per cui circa 600 tumori nella provincia di Pesaro Urbino noi qui attuiamo regolarmente nel 30% di interventi per tumore della mammella la chirurgia oncoplastica che è una chirurgia che permette comunque un risultato estetico molto favorevole e una radicalità oncologica molto più ampia facciamo un inciso sembra essere un problema tutto al femminile in realtà così non è sottolineiamo questo aspetto che spesso è sottacciuto assolutamente sì nel 2021 state fatte diagnosi di 55.000 nuovi tumori della mammella femminile e 650 maschine ricordiamoci che anche l'uomo purtroppo può ammalarsi di tumore alla mammella le percentuali non sono paragonabili assolutamente però mi raccomando anche l'uomo non esiste uno screening per il tumore della mammella maschile però l'uomo deve fare attenzione come per tutte le altre cose anche al tumore della mammella supporto non indifferente a Fano l'associazione Fior di Loto l'associazione Fior di Loto nasce proprio dal bisogno da parte di donne operate al seno di sostenere e supportare le donne che come loro purtroppo devono passare questa situazione quindi stare vicino a queste donne perché il bisogno non è solo nel momento di dover affrontare un intervento o delle cure e il bisogno c'è anche dopo perché il tumore al seno purtroppo è una malattia che nella testa le donne non li abbandona quasi mai e da Fano ci spostiamo ad Ascoli Piceno dove è stato festeggiato l'anniversario dell'inizio della lotta partigiana vediamo si è rinnovata come ormai tradizione la celebrazione del 79esimo anniversario dell'inizio delle lotte di liberazione ad Ascoli e dei fatti avvenuti nel centro cittadino a Colle San Marco la provincia insieme al comune a Lampi hanno organizzato la giornata per ricordare con solennità avvenimenti e drammatici momenti che hanno caratterizzato la storia recente del nostro territorio l'importanza del 3 ottobre è l'importanza della memoria che oggi dobbiamo avere e infatti è per questo che noi abbiamo invitato proprio oggi le scuole ascolane che saranno presenti con circa 200 ragazzi perché è ora che è anche passata di cominciare a seminare e a far capire alle giovani leve quello che è accaduto nel territorio e dove affondano le radici della loro libertà e della nostra democrazia quindi questa ricorrenza che ha un valore inestimabile soprattutto per le future generazioni anche perché finora l'impegno in questo senso è stato veramente molto 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 latente e se non lo fa Lampi non lo fa nessuno almeno purtroppo queste sono le nostre considerazioni ci sarà la nostra presenza nelle scuole con un progetto che abbiamo fatto con le scuole proprio per andare a parlare di resistenza e dei fatti del nostro territorio e tutte le altre celebrazioni che normalmente si fanno nel corso dell'anno andare nelle scuole a chiacchierare con i ragazzi a fargli capire quello che effettivamente è successo perché quello che gli possiamo raccontare noi non è scritto purtroppo in nessun libro di storia e siamo alla pagina sportiva di oggi ricordo che nel calcio si disputeranno nel pomeriggio le gare del primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C in caso di parità al novantesimo si andrà ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore alle 14.30 l'Ancona cercherà di dimenticare la scoppola subita dal Montevarchi ricevendo i rimini mentre la Re Canatese sarà nella Tana del Gubbio leader insieme al Siena del Girone alle 15 invece la Fermana scenderà in campo al Manuzzi di Cesena e chiuderà il programma alla Vispesero alle 18 all'Adriatico di Pescara è una competizione ufficiale ma inevitabilmente le attenzioni di tutti sono rivolte principalmente al campionato ed è facile prevedere un ampio turnover vediamo ora le previsioni meteo per giovedì 6 ottobre un saluto ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo nella giornata di giovedì tempo sull'Italia continua ad essere dominato da un campo di alta pressione che interessa al Mediterraneo centro-occidentale regalando quindi una fase di stabilità con clima asciutto e temperature diurne sempre al di sopra delle medie del periodo notiamo dalla mappa della nuvolosità come comunque transiteranno degli addensamenti si tratterà di velature frequenti che potranno interessare le regioni più orientali del nostro paese ma in un contesto climatico comunque asciutto infatti osserviamo il tempo previsto nella giornata di giovedì sul nostro paese avremo condizioni di stabilità come dicevo con soleggiamento un po' su tutte le nostre regioni qualche nuvola bassa che potrà insistere sulle pianure del nord specie ridosso dei rilievi le zone pedemontane nonché anche locali foschie all'alba nottetempo anche nella vallata interna del centro-sud qualche innocuo nuvolamento sulle isole maggiori temperature sempre prossime ai 25-26 gradi sui versanti tirrenici sulle isole maggiori qualche grado in meno altrove ma comunque al di sopra delle medie del periodo tutti i dettagli li trovate comunque sull'app di Trebi Meteo e sempre per il calcio ricordo l'andata dei quarti di finale della Coppa Italia di eccellenza Porto Sant'Elpidio Atletico Azzurra Colli e Montefano Valdichienti Ponte si giocheranno alle 15.30 alle 18.30 Iesina Castelfidardo alle 19.30 Urbino Marina e dalle 18.30 invece sul nostro canale 13 il secondo appuntamento con cuore gialloblu la trasmissione sulla fermana ospiti in studio Eddie Mengo allenatore under 17 e Danilo buon padre dirigente del club gialloblu è tutto grazie per la cortesa attenzione e buon proseguimento di giornata